Lo sapevi che esiste una guida che ti può aiutare a trasferirti in Germania oppure se vivi in Germania a migliorare tanti aspetti della vita quotidiana? Ciao, sono Maurizio e sono il responsabile di Vivi Stoccarda, la piattaforma dedicata agli italiani che vogliono trasferirsi e che vogliono vivere meglio in Germania. Oggi sono qui con questo video per provare a raccontarti in modo molto sintetico cos'è Vivi Stoccarda, quali sono i contenuti che potrebbero tornarti utili e che sono gratuiti, o anche quali sono i servizi che potrebbero aiutarti per inserirti, per trovare lavoro, per vivere meglio la tua esperienza in Germania. Vivi Stoccarda è una piattaforma che nasce dal sito www.vivistoccarda.eu in cui puoi trovare oltre 500 contenuti utili e gratuiti che poi si sviluppa attraverso i vari canali social, quindi YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Threads o anche Spotify o anche, magari meglio ancora, attraverso la newsletter. Questi sono i modi in cui tu puoi trovare Vivi Stoccarda, ma cosa trovi su Vivi Stoccarda? Vivi Stoccarda è divisa in sezioni che ti accompagnano passo passo per quella della tua esperienza in Germania, quindi abbiamo la prima sezione che è quella trasferirsi in Germania, in cui trovi tutte le informazioni utili e necessarie per capire cosa fare prima ancora di partire dall'Italia per poter approcciarsi alla Germania nel modo migliore possibile. Quindi la prima sezione trasferirsi in Germania ti parlerà dei documenti che ti servono da fare in Italia prima di partire, cosa devi fare per la Meldum, per poter la residenza, come funziona per i Kindergeld, come funziona per i Kindersuslag, come funziona per quanto riguarda le banche, il Job Center, il Welcome Center, l'Arbeit Sam e via dicendo. La seconda sezione è trovare casa o quantomeno provare a trovare casa, con tutte le informazioni collegate, quindi come funziona per la Strom, l'energia elettrica, per il telefono, per le DSL, per il cellulare o ancora per tutti i vari tipi di assicurazioni che ti serviranno e che sicuramente ti saranno utili. La terza sezione è quella dedicata al lavoro, in cui troverai tutte le informazioni su come scrivere un curriculum in formato tedesco, troverai anche proprio il modello da copiare quindi per poterlo fare nel migliore dei modi, ma anche come cercare lavoro, dove andare a cercare lavoro, insomma cercare di spiegare tutto quello che è collegato al mondo del lavoro. La quarta sezione invece è dedicata al vivere in Germania, quindi come studiare il tedesco, la sanità in Germania, la scuola in Germania, oppure i numeri utili, oppure il cibo, insomma tutto quello che riguarda il quotidiano, il vivere quotidiano in Germania. L'ultima sezione è quella dedicata allo scoprire la Germania, al visitare la Germania, in cui potrai trovare tante informazioni utili sui posti da vedere, sulle manifestazioni e sugli eventi. Ma vi stoccato oltre a tutti questi contenuti gratuiti, offre anche tanti altri servizi, come per esempio la consulenza, che ti permette di capire e di fare tutte le tue domande, e di essere guidato nel trasferimento dall'Italia alla Germania, senza correre il rischio di fare errori che potrebbero compromettere la tua esperienza. Oppure per esempio la traduzione del curriculum, sul sito trovi il modello per poterlo fare in autonomia, ma puoi anche appoggiarti a Vipi Stoccarda e farlo in modo professionale in tempi rapidissimi. La ricerca del lavoro, perché comunque come Vipi Stoccarda possiamo accompagnarti e renderti più semplice e più veloce la tua ricerca del lavoro. I corsi di tedesco, che potrai fare direttamente dall'Italia oppure quando arrivi qui in Germania, per poter aumentare la tua opportunità di essere spendibile nel mercato del lavoro. La patente del muletto, offrendoti la possibilità di trovare rapidamente un nuovo lavoro. Il servizio di struttura, per chi ha delle case e deve fare dei lavori, quindi ha necessità di avere una maestranza con la quale è più semplice a parlare, perché magari parli in italiano. Le pratiche urbanistiche, sia in Germania che in Italia, quindi se hai dei problemi notarili, se hai delle cose da sistemare, puoi appoggiarti tramite il sistema convenzionato di Vipi Stoccarda, la promozione non soltanto sul sito ma anche su tutti i social, delle attività commerciali e delle attività artigianali di italiani che vogliono farsi conoscere nel pubblico italiano. Quindi per qualsiasi informazione, per qualsiasi richiesta, per qualsiasi necessità, ti consiglio di andare sul sito www.vivistoccarda.it, dove troverai tantissimi contenuti che potranno sicuramente aiutarti nel trasferirti e nel vivere meglio la tua esperienza in Germania. Appuntamento a un prossimo video. Ciao da Maurizio.